E purtroppo, nonostante le attività che abbiamo messo in atto, non siamo riusciti ad ottenere i finanziamenti necessari per completare i pagamenti. La società ha crediti, e di questo ne abbiamo parlato a lungo, però sono crediti che hanno scadenze pluriennali, quindi alcuni anche molto lontani, e che quindi avrebbero necessitato di un particolare intervento da parte delle banche, un intervento impegnativo per arrivare alle date, per smobilizzare i crediti delle date più lontane. Questo non è stato possibile, nonostante i tentativi che abbiamo fatto, purtroppo oggi abbiamo dovuto arrenderci all'evidenza. Ciò non significa che la società non abbia la possibilità di proseguire la propria attività, è un momento delicato che purtroppo dobbiamo affrontare, del quale dobbiamo rendere conto, ma non significa che la società non sia in grado di andare avanti. Anzi, devo dire che mai come in questo momento la società ha crediti che magari non ha avuto in passato, ma comunque sia c'è anche da dire che una società di calcio si porta sempre dietro situazioni che per gli istituti di credito non rappresentano certezze assolute e questo ovviamente si è manifestato anche in questa occasione. Devo dire che questo episodio fa avvertire con maggiore urgenza la necessità di un cambiamento, di un avvicendamento societario. Per cui è ovvio che questa testimonianza di oggi dimostra che la società da sola fa fatica ad assolvere tutti gli impegni. Per cui sarebbe opportuno che chi ha a cuore questa società ed anche le istituzioni in qualche modo si facciano parte di vigente per individuare potenziali finanziatori o partner o acquirenti della società.